Dopo la vittoria per 3-0 in trasferta contro il Catanzaro, la Casertana ha iniziato la preparazione atletica in attesa della gara contro l'Avellino. Allo stadio Pinto di Caserta, alle ore 20 e 30, la squadra di Federico Guidi vuol continuare il proprio momento positivo, cercando di racimolare più punti possibili all'interno della zona play-off. La vittoria contro il Catanzaro ha dato una spinta ulteriore all'umore del gruppo Rosso-Blu, che in dieci partite ha ottenuto otto vittorie e sole due sconfitte. Attualmente la Casertana occupa il nono posto in classifica, a quota 33 punti. Intanto bisognerà capire quali elementi scenderanno in campo contro la formazione di Mr. Braia. L'ex di turno Luigi Castaldo è preso con un nuovo infortunio muscolare e bisognerà comprendere se riuscirà a recuperare la condizione per scendere in campo. Gli altri due assenti della Casertana sono Bordin e Ciriello. Al tempo stesso si sottolinea il rientro di Matese dalla squalifica. Il match Casertana-Vellino sarà diretto dal signor Matteo Mercenaro della sezione di Genova, a coadjuvato degli assistenti Andrea Torresan e Alberto Zampese della sezione di Bassano del Grappa. Quarto ufficiale invece sarà il signor Hermes Fabrizio Cavaliere della sezione Aia di Paola.